torniamo a rivedere a all together now michelle perera una concorrente dal passato piuttosto difficile che già la scorsa settimana in puntata ci aveva regalato più di qualche momento di tensione il motivo è legato al fatto che la cantante romana di origine cingalese per molto tempo ha dovuto combattere contro lo spettro del peso corporeo michelle perera con la sua grinta e la sua energia aveva fatto scatenare il pubblico di all together now ma soprattutto la giuria che le aveva regalato un cento pieno il problema è che successivamente l'artista si è vista rubare più di qualche punto a causa dei giudici francesco renga in particolare e si è così scatenato a causa sua un piccolo caso legato al body positive si è infatti detto che michelle perera avesse rimarcato troppo il tema del body positive in qualche modo implorando voti proprio alla luce del suo fisico ma c'è molto ad averla fatta arrabbiare in particolare è stato un commento di francesco renga che l'ha messa a confronto in modo poco carino con un altro concorrente quando michelle unzich era chiesto alla perera se ci fosse rimata male per il giudizio ricevuto lei ha sottolineato che ad averla ferita era stato soprattutto il discorso sul talento fatto da renga il cantante di angelo aveva sottolineato che fra bravura e talento ce ne passa specificando come da questo punto di vista ci fosse un abisso fra la perera e l'altro concorrente visto poco dopo giacomo a questo punto michelle perera ha voluto mettere in chiaro come si fosse sentita dopo aver ricevuto commenti del genere rivolgendosi proprio al giudice che l'aveva in qualche modo smontata in risposta francesco renga ha dichiarato non sei una ragazzina sai come funziona quando ti metti in gioco giochi e può succedere che a qualcuno tu possa piacere meno che ad un altro subito prima che si esibisse nuovamente sul palco visto l'andazzo ilunga axe ha scherzato sul fatto che dopo la sua esibizione franesco renga avrebbe potuto ritrovarsi la macchina rigata la perera allora ancora con il dente avvelenato si è concessa di dirgli magari non ti rigo la macchina al massimo ti buco le ruote anche se è concessa di dirgli magari non ti rigo la macchina al massimo ti buco le ruote